Umbria Radio, Umbria Radio, News, Music and Reflections. Tutto gli ascoltatori di Umbria Radio, Francesco Locatelli in studio per questa puntata di 1200 secondi. Lo sciame sismico che ha colpito l'Italia centrale, seppur interessando fortunatamente solo il 5% della nostra regione, ha messo in ginocchio alcune zone della Val Nerina, pur lasciando pesanti conseguenze nel restante 95% del territorio che non ha subito danni, a causa di un'informazione scellerata che ha creato notevoli danni indiretti. Con il progetto La Voce della Val Nerina, Umbria Radio in blu, in collaborazione con il Corecom dell'Umbria, si pone l'obiettivo di poter raccontare la grande forza della popolazione colpita dal terremoto, la capacità di saper reagire in maniera solidale ad un evento sismico che ha modificato in maniera significativa anche il territorio. Il progetto si concretizza attraverso la produzione di quattro mini-inchieste, dedicate ognuna a temi individuati, dai legami sociali all'economia, dalla cultura al turismo. Umbria Radio, Umbria Radio, News, Music and Reflections.